come si vota informazione a cura del ministero dell'interno scheda rosa l'elettore dovrà tracciare con la matita un segno sul nominativo del candidato prescelto ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o comunque nel rettangolo che li contiene scheda grigia l'elettore dovrà apporre un solo segno di matita sul contrassegno della lista prescelta ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno o comunque nel rettangolo che li contiene senza poter indicare assolutamente alcuna preferenza per un candidato scheda gialla l'elettore dovrà apporre un segno di matita sul contrassegno o comunque sul nominativo del candidato prescelto informazione a cura del ministero dell'interno